Grazie a tutti Sono Presidente Maurizio, sono qua con il mio fratello Presidente Aurelio Oggi ci siamo incontrati per vedere un attimino quello che aveva fatto mio papà nel corso della sua vita che è venuto a mancare il 25 di aprile di quest'anno e la sua passione era la rilegatura dei libri e anche la conservazione degli stessi Lui è iniziato diciamo negli anni 60 ma diciamo che da metà degli anni 70 esattamente con il terremoto del 76 ha cominciato anche a rilegare tutti i messaggero Veneto per una memoria storica e anche per la sua passione appunto quindi da allora dal 1976 ad oggi ha rilegato tutti i messaggero mese per mese sono stati fascicolati, sono stati stampati e quindi sono a disposizione per la consultazione Oltre a questo c'è la rilegatura di tutte le famiglie cristiane e di tanti tanti libri raccolti veramente in una vita di passione L'intenzione del mio e mio fratello è di donare tutto questo perché non abbiamo il tempo e la capacità di continuare questo La donazione andrebbe al comune di San Giovanni a Natigione alla biblioteca affinché questo sia un contributo alla comunità che mio papà sicuramente voleva e sarebbe stato orgoglioso di questo Il messaggero alcuni anni fa stampava dei magazine Questo qua per esempio è il 2001-2006 che venivano praticamente dati con il messaggero E anche qui ci sono tutti i numeri rilegati uno ad uno Un'altra rilegatura è il Friuli Che tuttora stiamo acquistando e ha rilegato fino all'ultimo Anche qui stiamo parlando della collezione completa E poi tutt'al' aree Grazie a tutti.